In questi giorni si è tornato a parlare di due progetti che interessano il Comune della Spezia, il Miglio Blu e la Fontana d'Acqua in Passeggiata Morina. Sì, se ne è tornato a parlare perché, come tante altre opere pubbliche di questa amministrazione annunciate durante il mandato, ci è stato detto che anche queste due dovranno essere sospese. Il Miglio Blu, in quanto il soggetto incaricato dei lavori, ha avuto dei mesi di sospensione e quindi il Comune deve adesso scorrere nella graduatoria per nominare una nuova ditta. Perciò è un cantiere che farà dei passi indietro e non si sa se le opere verranno realizzate entro la fine del mandato. La Fontana d'Acqua, perché ci si è resi conto che la pompa che dovrà spruzzare questo gettito in mezzo al golfo, tra parentesi, nessuno penso sente il bisogno di realizzare un'opera di questo tipo. Comunque, tecnicamente questa pompa ha delle caratteristiche che devono essere meglio analizzate e non è un'opera di semplice realizzazione. Faccio notare che con queste ultime due opere il numero totale di iniziative dal punto di vista del tema delle opere pubbliche, che è molto importante per lo sviluppo di una città, da parte di questa amministrazione in inizio mandato raggiunge il numero di 12 opere che Palazzo Civico si è dovuto mettere nel cassetto oppure addirittura nel cestino. Ne cito alcune, il tunnel di Monesteroli, la variante Aurelia che è stata sospesa per numerosissimi anni, l'ospedale del Felettino che è tornato al punto di partenza, il rifacimento di Piazza del Mercato in stile Liberty, la piazza sospesa di Via L'Italia, sono innumerevoli. Arriviamo a 12 opere pubbliche comunque che il sindaco ha promesso e non realizzerà. Ogni quattro mesi i cittadini hanno potuto assaggiare il comportamento del sindaco Peracchini su questo tema. Un comportamento fatto quindi di annunci roboanti, di promesse e di superficialità e anche un po' di improvvisazione. Peccato però che la brutta figura l'ha fatta fare alla città.